Nome? Francesco? Matteo? Soprannome? Saggio? Il Freo? Peso? 83,5 kg? 73 kg? Età? 18 anni? 21 anni? Da quanti anni sei animatore al 3? Un anno? Due? Di quale classe sei animatore? 20 e prima? Seconda media? Cosa ne pensi? Una buona classe! Una favolosa, anzi, gran bella classe! Chi vince quest'anno il 3? I bianchi! Secondo lei? I bianchi! Mostra come inciti l'acqua squadra! 1, 2, 3! Forza bianchi! 3, 2, 1! Non si batterà nessuno! Ad l'euro! Eh! Il bambino del 3 che rompe di più! Caffi? Decisamente in tono! Finci di rimproverarlo! Dai Caffi il tuo polla! Ascolti dopo! Da reattivo! Il tuo assistente di fiducia! Il tuo assistente di fiducia! Per esempio! Essendo nella mia squadra, dico la storia! Rimproveri il gruppo giochi! Il maravolo non voglia però! C'hanno per me sbagliato oggi! Però vabbè, ti voglio bene comunque! Il tuo cantone preferito! Diabolic! Old eventi! Il tuo cantante preferito! Di Gabbure! Mia sorella! Cantaci un pezzo di una sua canzone! Ruggirei il regno! Io sto bravo per questo! Non lo faccio! Non lo faccio! Ma scivamo! Ruggirei il mio sole! Descrivi con un aggettivo Sanzu! Riffre! Te è bene! Che è il frie! Te è bene! Eeeh! Strabbidiante! Affascinante! Cosa ne pensi di Dario? Un gran pezzo di disegno! Una gran bella presenza! Sono il tuo parlatore! Fai un rutto! Non mi tieni! Sono un ragazzo educato! Superiamo! Closso Scooter! Nessuna da voi! Eh... Scuterone! Perizomo Tanga! Perizomo! Vanno bene entrambi ci non li indosso io! Ruggirei il bottico normale! E' uguale! Basta bene! E' indifferente! L'importante è che piazza la persona! Quando è stata l'ultima volta che hai avuto le tue cose? Ieri! Ma devo dire che non mi sono mai arrivato! Mai! Proprio mai! Hai qualcosa contro la ruggine e perché? No! Ma è anche simpatico! Un bel colore diciamo! Aperitivo o ammazza caffè? Aperitivo! Come gli avvici aperitivi! Gnagola! Per Cristina la faglia! Manda un bacio a Cristina! Ciao Chris! Mia! Canta a lingua! Non lo so come è il foglio! Pasta va a partì! Pasta va a partì! Pasta va a partì! Pasta! Eh! Salute ragazzi del CRE! Ciao! Ciao! Ciao ragazzi! Siete fantastici! Mi avete fatto passare non quattro perché io ero a mare una settimana ma tre settimane indimentitabili! Mi metto un bacio a me! Ah ecco! Insomma diamo un bacio a qui! A Devega e a Prisenti! E a Cico! Uno a Bega! Uno a Pese! Uno a Cico! E poi siamo i ragazzi che sono in questo lavoro da voi! Ok? Quindi... Mi volete! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!